Il mondo è un po' più libero di Aldo Grasso Aldo Grasso invece sta a casa a vedere la tv di merda che non gli piace E quelli di Sanremo, da come scrivono, sembrano persone che vengono costrette sotto tortura a vedere un Sanremo che non gli piace Perdendo di vista la cosa fondamentale, che Sanremo non è altri che una manifestazione di canzoni Che poi Sanremo faccia la rima con amore e cuore, questo non importa Ma dietro c'è soltanto quello, un festival che piace a noi Forse qualche paese, l'Albania, la Romania, vede qualcosa, ma non è in mondo visione Diciamoci la verità Non farei quel tipo di spettacolo lì, perché purtroppo ogni giorno bisogna fare una conferenza stampa Pensate se noi quello che abbiamo fatto oggi, sta rottura dei coglioni, la facciamo tutti i giorni Non lo so, io credo che tanto su internet, chi non vuole spendere i soldi per vedere cose dal vivo Qualche pezzo lo può vedere, insomma, anche in modo illegale, però lo vede Non lo so, io credo che la televisione adesso ha bisogno un po' di macerare nel suo aceto Un po' come se si mettono le puntarelle Quindi ha bisogno di talk show, ha bisogno di talent show La cosa, per esempio, del talent show, mentre il talk show aveva solo l'ardire di far parlare le persone Il talent ha bisogno di trarre fuori nuovi talenti Cosa farci, però poi non se l'è posto come problema E quindi dopo vedere se questi talenti in effetti possono essere sfruttati veramente Se il talento che viene messo in vista in tv poi dopo si scontra con la realtà dei fatti Perché è talmente volubile il mercato del cinema e il mercato del teatro Saper cantare, recitare e ballare Poi a qualcosa deve servire, non solo al compleanno di mamma o di zio Deve servire così a sollazzare grandi platee E quindi per adesso la televisione è in piena confusione, lo si vede La televisione perde ogni giorno, quella generalista perde sempre grandi percentuali Grandi fette di pubblico che vede sempre tv settoriale Per cui si mette su altri palinsesti e vede programmi a go go Dal restauro delle autovetture al restauro delle case in America Poi mediamente è tutto in America A come si rifanno, che ne so, si ripittura una parete Strano, no? Quindi quel varietà di una volta già non esiste più Il pubblico non lo vuole vedere più Vuole vedere altro, che è diverso Staremo a vedere Io per adesso faccio il mio teatro, mi accontento di fare ogni sera Di avere un pubblico diverso